Musica Musica Io sono Carla Merlo, sono nata a Castagnito il 21 maggio del 27 e perciò ho fatto 90 anni dunque mio padre qui era il suo regno perché c'era una certa compagnia chiamata i Battuti chissà lì perché io mi chiamavo i Battuti e lui era segretario non so c'erano quelle caselle e che forse quando si segnavano pagavano qualcosa c'erano tutti i nomi là e poi lui con questa chiesa ne aveva proprio una malattia mi ricordo che allora venivamo a piedi eravamo passati da una strada lì una scorciatoia che è di terra e siamo arrivati lì e lui ha visto che su da sé il miglior e spuntava dell'edera ommi ommi adesso si va a succedere la cosa c'era? la ruina del mondo è troppo preciosa la c'era e lui non si va a succedere c'è poi un dritto che vuole tutto fino a terra e dopo mi aveva sempre sì un favore segretario di Battuti e so che a un certo punto aveva un certo registro che lo portava dal parroco a firmare una volta all'anno si vede che c'era una contabilità lì magari non so se spendevano 5 lire a farsi segnare e lui teneva questi registri si andava a portarli a firmare un giorno è venuto un ispettore da Cuneo da noi e nell'intervallo da mezzogiorno alle 3 si è fatto dare una sedia mi dia solo una sedia e l'ha posata davanti a questa chiesa e l'ha guardata tutto il tempo finché non è entrato nell'ufficio ha sempre ammirato sta chiesa dicendo oh ma sarebbe bella oh ma sei ben fatta 3 ore non cambia posizione insieme a quella chiesa perché è ancora trova bella ben fatta infatti è bella davanti e noi non venivamo qua andavamo in parrocchia qui venivano gli uomini a vestirsi per una certa processione o sepoltura non cambia posizione e invece noi dovevamo venire già su vestiti di bianco perché ero volvelo e sì dove non hanno vestiti vorrei ad ogni modo invece loro venivano tutti su e dopo sentivo si porti la porta allora io mi chiamo Allerino Alessandro 12-10-28 sono sempre venuto in questa chiesa da giovane aderivo a fare la processione e tutto e l'ultimo battuto che sono stato qui sono stato io c'era mio nonno papà di mia mamma era lui che aderivo qui suonavo la campana faceva la pulizia tutto e poi quando c'era da andare a fare la processione perché facevano 3-4 processioni alla primavera e lui girava così come con gli altri poi quando c'era da suonare se c'era mancato uno suonava la campana qui nel coro c'era 5-6 bastoni piantati vicino al coro che tutti quando andavano a prendere quando facevano la processione ognuno prendeva il suo lo portavano in processione così poi c'era che era un affare grosso che c'era il signore noi siamo di Cristo e lo portava uno solo sempre il medesimo perché era pesante i vestiti io avevo bianco con la cintura qui con due fiocchi le donne quelle più vecchie avevano il velo giallo un po' giallo invece le figlie si chiamavano le figlie di Maria avevano un nastro qui con una medaglia qui blu quando sono smesso si dicevano ancora una messa la domenica una volta alla Pentecoste invece prima le dicevano due o tre poi c'era la processione facevano tre giorni alle mattine tre processioni presto io sono Angelo Lerino nato il 16-3 1939 posso raccontare poco perché sono ricordi degli altri più anziani dei nonni noi la processione quando facevano a maggio se facevano le rilogazioni giravano i primi quando c'era una sepoltura erano sempre a fianco alla barra e noi ero erichetti ero bambini piccoli venivo soprattutto non sapevo neanche di andare alla sepoltura venivo per quattro soldi perché c'era una paga tante cose abbiamo sentito da questa gente cose raccolte questo gruppo di persone che aiutavano anche la gente una famiglia che non poteva andare avanti era giù come come dire non aveva soldi è arrivato fino all'anno che o anche metà anno che non poteva andare avanti come vita e loro aiutavano gli aiutavano con un prestito qualcosa di denaro dopo qualche testo restituì sono una persona da ammirare era una persona anche di pochi studi ma ho tanto cervello che mi Grazie a tutti.